Amico, ah salve Santen Chen, ha un altro video da farci vedere lei? Che ieri ne abbiamo analizzato uno di Santen Vediamo che cazzo fa adesso di nuovo Intanto guarda che cazzo di cose che mi arrivano, sono un bestemmio Borgon, madonna le live di Pang mi arrivano Salve, ha fatto un nuovo video? Adesso? Ah no, questo qua era sempre del... Era sempre il tutorial di ieri, molto bello Signora Santen Chen, vediamo se ha fatto video recenti lei 22 ore fa, un altro live streaming di Santen Chen Fa solo live signora Ha delle copertine comunque vada cattivanti eh Non so perché non voglia cliccare Ve l'avevo detto io in precedenti video Ipnotica, no ipnotica non la voglio vedere Ma cosa fa lei signora? Lei è un accultureto, lo vedo con dietro dei libri C'è là il mio libro, l'ha comprato? L'ha comprato? La chiave per la maturità l'ha preso? Dov'è che non lo vedo qua dietro? Non c'è, non c'è là Spammamento di Duncan, sotto in descrizione Se andate a comprare il mio libro guadagno 20 centesimi a copia Grossi guadagni Se avete voglia di comprarlo Più che altro mi fa piacere se lo leggete Vabbè, quante cazzo di cose hai fatto? Andiamo sull'ultimo Che ha fatto? Andiamo a velocità 2 però Partiamo per vedere che fa Salve cari amiche ed amici Qui ancora una volta il vostro San Ten Chan Che vi saluta E che vi ringrazia di seguirvi Cioè questo è il mio pubblico Cioè per capirci questo è il mio pubblico Cioè persone di questo genere Guardi, guardi, guardi Guardi che disagio che mi fa venire a vederla Che c'ha lì la croce che è? Che c'ha qua? Che simbolo è? Che è? Satana, satanismo, che è? Che titolo dare? Ah manco il titolo ha deciso di dare Questo live si chiamerà un altro live Come me signora che non sa come cazzo fa la sera E fa dei titoli a cazzo Devo ringraziare D'Anchor A me? Perché in una sua Ma grazie, vedi, non sapevo Qua una mezz'ora fa, un'ora fa Ah, dopo l'area venire è fatta Un po' due ore fa Cioè L'eccaculismo mi piace molto No, sei blocchetto Ah, l'ho blocchetto io Scusi Ma che è? E lui gentilmente Ah, laggato è incredibile Nel suo live streaming Streaming Pratico a pubblicità al mio canale E quindi Ehm D'Anchor D'Anchor Ma manco lo sai come mi chiamo a portarci tua Dito al tuo canale E ho azionato la campanella No, Yami Lo devi comprare Che è formato Il mio video Quindi se tutto e tutti voi Stella dei massoni Cos'è? Poteri forti Salve Pex La saluto carissima Cad'è? Ma che fa? Ma c'è? Intrattenga il pubblico Vabbè che non veniva nessuno Io parli del vostro canale Ehm Menzionatemi Fate vedere il mio canale Nel vostro live Commentate i miei video E io A un invito Commenterò il vostro canale Ah, grazie Fai come PANG Fai come PANG Sponsorizzo Gusto Gusto Gustato Dice Costanzo Studi Non cincischi Che venerdì C'è l'interrogazione Ma che dice? Posso andare a velocità 2 Scusi Dove Naruto Buddha Cina Corea Japan Mi dice Ciao Potresti parlare di Ma dove? Ma non scrive nessuno Velocità 2 Ma non scrive nessuno Ah forse devo andare qua No ma non ha scritto nessuno Signora Ma a chi cazzo risponde? A chi ha risposto? Mi passi una copia digitale Yami a lei Solo a lei Gliela potrei fornire Guardi Solo in versione Piratata Piratata Del mio libro Guarda questo mio video A Huawei Dance No Lei non vuole farci vedere questo Perché ha delle cose a nascondere Vabbè perché non la Perché non la segue nessuno Signora Non scrive un cazzo di nessuno Ma di chi? Era fra che Non ho sentito i vocali Per confronto Officiale Restetelo Madonna Madonna Non puoi non mettere Una moda Che ti Ti fa ste robe Ah non faccio il mio stesso errore Comunque 15 euro Avrei potuto drogarmi Posso donare uno in live Ma me lo mandi in digitale Ma io in realtà Ho il pdf Poi Non è la versione ebook Non l'hanno fatto Non avevo nei soldi Ebook Vabbè comunque Signora non capisco un cazzo Di quello che dice Quindi io vado Ma lei fornisca una copia digitale Ma io ho solo il pdf Poi decidi tu Se ti può andar bene Io non lo so Questo è pericoloso Questo qua ragazzi C'è i poteri forti Questo qua Ma volevo capire Se almeno uno Gli avesse commentato Attenzione A uno Tutto bene Grazie a tutti Stavo pensando Avevo pensato Di iscriverti in questi giorni E poi ti ho becchato qua Andresenda Signora ma lei che cazzo fa Scusi che C'è Di che parla Di chi Di che Adui Che Da dismo Eh che De che Mucchio selvaggio Questo non è arrivato in mucchio Eh Whatsapp Uno dice Ti sponsorizzo a te Ma non faccia come panga Non si riduca Se stronzete Ma stavolta faccio Con un altro modo Non farò più come una volta Che scrivo il nome Della persona sul video Ma lo scriverò In un modo cartecio Perché io apprezzo le critiche Comunite Apprezzo il sarcasmo Apprezzo l'emonomia Apprezzo l'umorismo Non apprezzo gli studi E tante persone Ma non c'è più cazzo Ma come tu per Apprezzo il tutto Io per esempio Eh Sono pronto a tutto Ultimamente Se voi guardate i miei ultimi video E sono pronto a tutto E infatti Pur di passare Per un dark È molto tempo Perché filmo Eh Dark Perché mi ha scritto Nella sua live Mi ha scritto Perché mi ha scritto qua Che cazzo fa Si spamma pure in inglese Si spamma Perché mi ha scritto Che non c'ero io Vabbè grazie signora Mi ha spammato Parla di video che ci sono Degli che mi slow drive Parla di video che più ti sono piaciuti Del mio canale E Vabbè ma credo nessuno Che possa piacere I suoi video Signora Aspetti che vado a recuperare Altro magari Ciao cari La saluto carissimamente E qua di nuovo mi chiamano Basta Mi sono rotto il chezzo Anche perché parla scoreggio Questo Ehm Ciao Guarda questo mio video Electronic Dance Ah l'Electronic Dance Guarda solo più questo Poi basta Poi basta E poi chiudo Chiudo il canale Dopo questo Dov'è Dov'è Chi Che ha detto Qual'è Chi Super Dance Che Questo No Signora Quanti chezzo Di video ha fatto Aspetti Che titolo C'ha Ehm Electronic Adesso glielo cerco Vada Ma non c'è Non c'è Signora Ma che Come che Sono andato Il pornazzo Scusate Non lo trovo Non lo trovo Non lo trovo Video Electronic Dance Forse lo devo scrivere proprio giusto Se non va Ho scritto solo un po' l'inizio Vado qua Vado qua Via Ah così lo trovo Vado su questo Signora Così qua non è lei È sempre lei Questo Aspetti Che qua Sono a velocità Ma io dico Ma io dico Ma porca puttela Ma perché Perché Signora Sand and Jan Non si avvicini Così troppo Che ha fatto Il tutorial Del coso del domestico Lo mette sempre Comunque Vabbè Molto interessante Signora Ma che fa Ma che Ma c'ha una seconda Piena Come me Signora Lei La tetta È messo bene Vabbè Molto interessante Cosa ne pensate Di questo video Io Io non ho più parole O meglio Le avrei E sono comunque Vada Piene di vomito Yami dice Voglio farlo anch'io Con questo ballo Questo video proprio Questo è il senso Del ritmo Di un crotalo Non lo so Perché Signora Indica Effettivamente Il lobo Intanto Io vorrei capire Perché Supertrump Odia così tanto Hyde Perché Le do il contatto Gli scriva Tutto il suo odio Una volta per tutte E non mi Sfracassi I maroni Qua a me Ogni puntata Che contenuti Di qualità Ha visto È piaciuto Sono piaciuti Di molto Credevo che il mondo Si poteva salvare Dopo questa Non ci credo più No ma Signor Santenchan È uno intelligentissimo Guarda quanti libri C'ho dietro E lo voglio Come danza Di fortnite Quella nuova Se dovesse fallire La canela VTuber Può aprire Un manicomio Con tutti I soggetti Che invita Tra processi Talent E iscritti Si guardi Io racchiudo Il peggio Che si possa Trovare In società Ecco Discutevamo Con gli ami Di questa Creazione Del cast Ecco Capite Come si crea Il cast Così Guardando Chi mi segue Ascolta la musica Ah beh Perché la musica Ah il coso Era come invito Ad ascoltare la musica Ma noi siamo distratti Nel video È un po' come guardare I pornazzi C'è il video con le femmine Con i culi di fuori Con il cazzo Che sento la musica Cioè sono lì che mi seguo Come un animale Eh sì Non ha neanche mostrato I piedi Eh sbaglio È lei Il figlio Dell'omonimo Della Michelangon Eh sì Ha un po' Abbiamo più o meno Lo stesso fisico Io e la signora Comunque Eh sono Tornato Qui è quel figone A petto nudo Lui è Sancentan Chi? Sancentan Proprio lui Eh i libri Questo li usa Come firmini Per le porte È più colto Una Una Ah un aborigeno No ma lei Non l'ha sentito Parlare prima Fisico Da lanciatore Di ipotesi Ma questo Balla veramente così Sembra un brad E poi un gesseto Però io vorrei Chiedere a signora Sancentan Cian Qual è il suo Cioè perché ha fatto Sta roba Cioè innanzitutto Perché lei ha un canale Youtube Quanti iscritti Non si vedono Cioè perché lei ha un canale Youtube Cioè almeno io Ho un canale Youtube Per fare merda Quello che faccio Solitamente Però lo dico Cioè è aperto E poi a qualcuno Piace anche Però nel suo caso Perché lei Guarda sta roba Cioè perché fa sta roba Lo vorrei capire Fisico Con l'ho letto Signora si contenga È una domanda lecita Lo vogliamo per forza Al processo Anzi Alixdancol Vuole venire Alixdancol Il programma Canoro Di Youtube Vuole venire Ma perché Un dito nell'orecchio Lì è per Dire Invitare a voi A sentire La musicalità Della canzone Credibile Signora mi sa Che Sant'Anchan La vuole menare No no Stiamo facendo un pompaggio Di iscritti incredibili Ma vedete che ha 1600 viso A sto video Incompressibili Grazie dei complimenti Prego prego Sant'Anchan Però dica Risponda Risponda Sar per Trump Per culo D'Anchol Che non Non può farlo Mi percula Mi percula Riassunto Il video Non ho capito Ah quello lì è riassunto Intanto mi si aspetta La luce Il Chad ha scoperto Frakeno in giatto Col Nick Sono Dio È lui Lui madonna C'ho sguinzaglieto Subito Informatori segreti Io voglio Duncos Duncos Got Talent Quello che potrebbe essere L'evoluzione Poi Dell'X Duncol Calzoncini Della Fiera 1985 Io i calzini Non li ho visti Si vedono Signora Ho le mutande Le dice Un po' le mutande La fantozzi Lei Ascellari Comunque un bell'uomo Niente male Ancora non si è capito Perché lei fa sta roba Non l'ha detto Ora si mette anche in mostra Facendosi chiamare Della gente Per fare visual Poi dice a Tony Ancora 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 che rompe il cazzo Vincerebbe a mani bassa Il premio ballo Del mattone Fradicio Vabbè Quando ho scoperto Dunco La mia sera È meglio di una scopata Con la mia raghezza Grazie Tony Parisi Meglio scopare Oppure se lei Non la voglia di scopare Lei viene a fare live Io scopo la sua raghezza Cioè Se possiamo fare questo cambio Ogni tanto Cioè Ma è un'amicizia Non sarà amore Poi il nostro Non dovevo dirlo Faccio video Per divertire E divertirmi Brevo Brevo Mi piace Mi piace Quale è il video Dell'idraulico Quello lì è successo Incredibile Ha fatto un successo Mostruoso È il rituale Della pioggia Pioggiosa Questo qua Buttatelo fuori No 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 Non mi mettete In time out Tony tubo Che Sennò poi va a finire Che davvero Lo perdiamo Va da un'altra parte Faccio video Per divertire L'ho letto Signor Gustubus Vincerò Mariccio Stanzo Già lancia Comunque va da proclami Signore Le conviene aprire un circo Con tutti questi fenomeni Da baraccone Che scopre Ma il problema Che non è che li scopri Perché mi Mi vengono segnalati Come vedete Sono naturali Ecco vado E Cioè per caso Cioè meno male che non li vedo Ognuno di voi I canali Sennò sarà un disastro Ah Ah grazie Grazie Lo fa Posta che far incazzare Super 3 Mi fa piacere Ho un forte senso autoironico Eh si vede Mi piaci Mi piaci Mi piaci E porti altri video Domani Che ce li andiamo a vedere Vabbè Possiamo chiudere Questo canale Andiamo avanti Ancora per poco Così poi chiudo Vi saluto tutti Vi vado tutti a far culo Cioè Vi saluto caricemente Dov'è che devo andare Qua Su